buongiorno carissimi amici benvenuti nella cucina di mau eccoci qua di giovedì si avvicina il weekend non è finita la settimana lavorativa ma noi ci siamo però ragazzi allora cosa stiamo combinando oggi allora ho messo a soffriggere una cipolla tanto aglio in camicia un po di peperoncino secco rosso poi ho messo un bel bicchiere di vino rosso l'ho fatto asciugare un po tanto olio d'oliva e poi un pomodoro fresco e 400 grammi di pomodori pelati che adesso stanno rosolando qui stanno sobollendo qui devo semplicemente spostare le padelle perché mi serve la fiamma alta facciamo un pochino così devo fare attenzione qua spostiamo un attimino mi serve la fiamma alta per la mia zuppa di pesci una zuppa particolare una cassola la chiamiamo in sardegna rivisitata da sottoscritto qui invece abbiamo un ragù di carne macinata di manzo e salsiccia va bene semplice sta cuocendo con molta calma già un'ora abbondante lo lascio due tre ore ok allora costiamoci qua fiamma alta e andiamo a preparare la nostra zuppetta allora ecco cosa cosa determina la cassola ragazzi potrei anche sbagliare guardate a volte allora la cassola ricordo che ci sono le patate c'è il merluzzo giusto e vediamo un po di rivisitarla adesso facciamo ravvivare il fuoco ci facciamo di buon mattino un sorsetto di buon vino rosso io sono in ferie ragazzi e posso permettermi senza esagerare ne abbiamo messo un po nella un po nella zuppa di pesce la cassola e un pochino lo beviamo noi buona giornata buon giovedì amici cari e benvenuti poco 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 senza fare allora qui ragazzi c'ho quello che noi chiamiamo a londra ad hoc ok guys i marinate it with the soya sauce lemon parsley a coarse salt sea salt ok there we go same for my red mallets ok clean them remove the scale put some parsley soya sauce coarse salt and and that's it a olive oil plant olive oil yeah so cook it nicely here i need to let it go for the moment i'm going to add some more water ok be generous two cups ok there we go now i'm going to peel my potatoes ok guys ok 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 allora ragazzi pian piano lasciamo so bollire la nostra acqua l'acqua di cottura con la salsa di pomodoro adesso prendiamo due patate grosse sono belle patate da forno queste ragazzo belle toste iniziamo a pulire le tagliamo a pezzetti organizzare qua allora oggi ho degli impegni in realtà però vabbè possiamo anche cucinare no? trovare il tempo per fare un piccolo video e condividere la passione per la cucina e condividere la passione per la cucina ecco qua ragazzi ok ragazzi today i'm off i'm not working so i'm cooking for you ok one potato and two ok spedetti ok spedetti ok ok i'm going to cook my potatoes ok so i'm going to melt with my sauce i'm going to give some lovely thickness ok ragazzi bella qui con bar in cucina il nostro bicchiere di vino è qui che è la cosa più importante ecco qua mondino ti ho perdonato va amico di sempre Mondino non dimenticherò mai una cosa di te fammi tagliare le patate prima abbiamo la latte adesso le mettiamo a pezzettoni a pezzettoni dentro la nostra zuppa diciamo a pezzetti non pezzettoni allora Mondino quando ti ho prestato la moto e ci sei caduto ti ricordi la moto nuova la Yamaha XT600 giusto? ti voglio fare un regalo per la tua gentilezza a Londra nel lontano 1986 io Alberto ospiti a casa tua ti ricordo tanti anni fa bei tempi e anche per colpa tua che io l'ho finita a vivere a Londra eravamo ragazzini ci si voleva divertire e via e l'abbiamo finita a stare qui almeno io ecco qua ragazzi via via ecco qua il bel brodo allora ripeto c'è del vino c'è tanto aglio in camicia un pomodoro fresco poi ho messo dei pomodori secchi nel pesce che sta marinando ok quindi prende il suo gusto adesso facciamo andare un po' la salsetta lì deve sobolire per un pochino noi facciamo un piccolo brindis eh già Mondino e che si dimentica e come fa e come faccio a castigarti non fa oh ma mi hai trattato male per le sardine eh oh cin cin allora raga eccoci qua dunque adesso a preparare il mio pesce qua lo rimuovo dalla salsina con cui lo sta marinando e poi lo spostiamo in padella al momento opportuno ecco lo mettiamo in questo contenitore di vetro magari pian piano ecco qua uno però dopo da fare attenzione guarda che bello che è ragazzi bellissimo haddock lo chiamate asinello in Italia egle fino pesce continentale non lo so della famiglia del merluzzo comunque bellissimo ecco qua togliamo via la salsina con cui ha marinato molto bello e siamo a cavallo eh io dall'altra parte ne lavo le pentole come al solito ci sono qui anche le che 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cagliaritana. Poi io le cose le rivisito, c'è poco da fare, non le faccio mai uguali, mai 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 uguali. Quindi, nella mia cassola ci va la doc, l'asinello, poi c'è un po' di trigliette qui e logicamente, queste le sto andando un po' a memoria, raga, le patate. Quindi ho messo due belle patate da forno, ci ho messo anche un bicchiere di vino rosso, vorrebbe bianco, vero? Non ce l'ho. Brindisino, questo è il giorno di ferie, quindi ceccia a cucinare, raga. Allora, facciamo un bel ragù per i bimbi, adesso seguiamo la nostra zuppetta di pesce, qua, alla grande. Spostiamo volentieri le trigliette, adesso vorrei fare un'altra cosa io, ragazzi, vorrei preparare un dolce. Allora, ragazzi, cosa è successo? Ieri ho fatto il dolce per i bimbi, insomma, è andato un po' così, diciamolo. Sono viziati questi, cioè lo vogliono bello dal negozio, dalla pasticceria, logicamente papà non è bravo come pasticceri, che cosa volete? E poi, insomma, dolci non sono il mio forte. Diciamocelo! Diciamocelo! Benvenuto, vamos! Errori! Sono un po' nervoso, ragazzi, oggi. Ieri era un giorno speciale, ma di festa non se n'è parlato, ma va bene così. C'è questo periodaccio di Covid che ci sta mettendo, ci vuole buttare giù tutti quanti, ma noi siamo delle montagne. Una mia amica dice, Zeus de Verru, noi sardi, Zeus de Verru. Ecco, iniziamo ancora qui. Allora, ragazzi, pensiamo al dolce. Controlliamo il forno. E facciamolo partire. Iniziamo a riscaldare il forno. Allora, prepariamo una cheesecake. Eh, ma che regno è il regno, ah, Mos, ma che mi dici? Fabio, facciamo una cheesecake. Aio, ragazzi. Allora, prendiamo i contenitori. I contenitori. Aio, ragazzi, 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 ragazzi. Allora, ragazzi, dobbiamo dare il tempo la zuppetta di cuoccio, ecco. Le patate le voglio proprio ben cotte. Quindi, dove siamo? Dove siamo? Dove siamo, ragazzi? Mettiamo un po' di musica. Grazie. 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 Adesso arriva un po' di musica. Ci tiene compagnia. E facciamo un dolce. Prepariamoci fuori il dolce. Allora, qui sempre che cucina il mio ragù, alla grande. Intanto gli diamo una mossetta. Ecco qua. Schiacciate bene i pomodori, ragazzi, mi raccomando. Facciamo cuocere le patate. Si devono proprio sfaldare. Siccome sono patate da forno, ci metteranno di più. Belle sode. Porti. Costano anche il doppio. Non l'ho capito perché. Allora, la salsina va. Eccoci qua, con il nostro sorsetto di vino rosso. Eh? La cosa buona. Allora, ragazzi. Prendiamo i biscottini. Facciamo una cheesecake, abbiamo detto. Insieme a una busta. Ecco qua, un pacco di biscotti. Una busta. Andiamo dentro. E andiamoci su con il martellino. Io continuo a spostare tutto qua. Non mi trovo mai niente. Oggi non c'è il martellino. Prendiamo... Prendiamo... Un'altra busta. Vai, ragazzi. Mettiamo anche un'altra busta. Soprattutto non riusciamo nell'intento. Dobbiamo spricciolare il cretto. Un'altra busta. Un'altra busta. Grazie a tutti. Ecco qui, più o meno. Ma che bel lavoro, eh? Tutto manuale in casa mia, ragazzi. Tutto manuale, mondino. E controlliamo la nostra giuppetta che non ci attacchi niente sul fondo. C'è del peperoncino. E schiacciamo bene i pomodori. Sale alla fine. Se ce ne sarà bisogno, perché l'ho già messo col pesce, un pochino, quindi... Non ce ne bisogna, anzi. Mi corregolo. Dovete proprio sbriciolare i biscotti. Adesso da questa parte io ho un po' di burro che va da riscaldare. Io ho un po' di burro che va da riscaldare. Adesso prendiamo il piatto di portata. Ecco qua, una bella ciotola dove far cuocere la forza. Adesso versiamo i nostri biscotti. Belli, belli, belli. Ok, li mettiamo da parte qua. Adesso io ci metto un po' di noccioline dentro. Boccioline tostate, non troppo. E facciamolo tutto lavoro. Andiamo a mescolare. Ecco qua. Ecco qua. Lo scoliamo. Ah, uno spettacolo ragazzi, uno spettacolo. Questa parte, sempre un po' di noccioline. e la zuppetta, le patate stanno cuocendo. Ecco qua. E aggiungo un altro pochino d'acqua ragazzi. Ecco qua, una tre. Spazio abbondante. E aggiungiamo il nostro burro ai biscotti, alle noccioline. e mescoliamo. Pian piano, un po' di noccioline che è caldo. Adesso in realtà vorrebbe trittare un pochino di più questo impasto, ragazzi. Allora, vediamo un po' che si può fare. Buon altro po' di burro, logicamente, perché deve diventare proprio una specie di impasto, non so. Adesso io ci aggiungo un po' di olio d'oliva, ok? Qui, un po' di olio d'oliva. Ok, troppo burro, non mi sta bene. Ecco qua, un po' qui. Forse è sbaglio, ma non me ne frega niente, ragazzi. Ecco qua, mischiamo bene. E lasciamo riposare il nostro burro, ok? Vediamo un po' come va a finire. Allora, il forno sta riscaldando. Il mio ragù continua a cuocere. Abbassiamo la fiamma. Fiamma molto bassa, ragazzi. Continuiamo a schiacciare i pomodori pelati. E speriamo che esca una cosa buona. Allora, spostiamo le nostre noccioline e passiamo a lavorare il formaggio. E passiamo a lavorare il formaggio. Allora, ragazzi, la ciotola. Una frusta. Chiede di vino. Ah, che buono, ragazzi. Via, si inizia. Allora, ragazzi, ci vuole il formaggio fresco. Ecco qua. Andiamo a mescolare. Ecco qua. Ci vuole lo yogurt. Fresco. Le metti in abbondanza io. Mescoliamo piano piano. Piano piano. Bellissimi impasti, ragazzi. Metto anche un altro tipo di formaggio. Sempre formaggio fresco. Via. E mescoliamo pian piano. Piano piano, ragazzi. Piano piano piano. Piano piano piano. Una volta. E mescoliamo pianta. Piano piano e pianta. Mescoliamo pian piano, facciamo un bel liquido, un attimino, ci vuole una puntina di sale, poco poco, adesso un goccino di farina, io la metto proprio pian piano, poco poco, e continuiamo a lavorarla, usate i formaggi che volete ragazzi, freschi, ok? Non formaggi stagionati, logicamente, questa è una bella torta per i bambini, bene così, aggiungiamo un po' di zucchero ragazzi, un chieno di zucchero, io vado sempre a occhio, ma non esagerate, e giriamo. Un altro uovo, passiamo a tre, un pochino di farina, e ci mettiamo un pochino di lievito, poco poco. Un altro uovo, passiamo a trattare, in un pochino di farina, Allora, porto un pochettino, eh. Aspetta attenzione. Siamo quasi, ragazzi. Un altro uovo. E un altro po' di farina. Dove resta? Sentire la densità, ragazzi. Certo, quindi, piano piano. Non troppa farina. Ma è tanto giusto. Adesso è troppo liquido. Per la vita, la mia vita, la mia vita. È tanto giusto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi ci mettiamo su questa crema i formaggi. Va bene ragazzi? Allora facciamo... ecco qua per la liquida. Via, il forno. Ecco che, facciamo cucinare 35 minuti, 35 e stiamo a cavare. Qui il ragù va bene e siamo arrivati al punto possiamo aggiungere il pesce alla nostra zuppa. Musica un po' così eh? Giusto ragazzi? Allora vediamo un po'... ecco qua. Io schiaccio un po' le mie patate. Ancora sono belle toste. E ci mettiamo il nostro pesce, tutto a giro. E' uno spettacolo ragazzi. Tutto a giro così. Ragazzi è una cosa veramente sublime. Bene, così. E abbassiamo la fiamma, ok? Adesso prendiamo anche le criglie. E anche a queste le mettiamo tutto a giro. Facciamo insaporire bene. Ecco qui. Ricopriamo le foglie di prezzemola. E siamo a cavallo. Allora ragazzi, che vedete voi? Costiamo il pomodoro qua, con il ragù. Ci aggiungiamo un po' di sale al nostro ragù. Poco a poco, via. Facciamo qui la cottura. E qui la nostra giuppetta di... La nostra cassola davanti. Bene. Io qui. Lavo i piatti. E qui. Poco a poco. E qui la nostra giù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho preso giorni di ferie anche per quello, perché mi sento un po' strano, diciamocelo, diciamocelo, casino, ragazzi. Purtroppo. Purtroppo. Ecco qua. Allora, stiamo arrivando ad un bel trito di prezzemolo alla fine, cuoce a fuoco bassa la zuppa. Allora, 10 minuti non di più e siamo a cavare. Quindi lo stesso per il mio ragù, tutto pronto. Dunque, devo sistemare un po' di penzo alle pentolini, ragazzi. Non c'è spazio, non c'è spazio. Non c'è spazio, che devo fare? Ecco qua, così. Quindi sto di sistemare i piatti in qualche maniera. Non c'è spazio, non c'è spazio. Scusate i rumori, ma ecco qua. Io ho quasi finito. E' spazio. va bene ragazzi ci eseguo bene così facciamoci il sorsetto di vino con molta gentilezza senza fare gli ubriaconi un goccino di vino mezza mattina siamo in giorno di feria non muore nessuno salute italia amici miei di cagliari cin cin amici londinesi bye guys so my cassola sagasola italian fish delicatessen e ha molti flavors chilis potatoes parsley onions plenty garlic tomatoes there we go then lovely fish like haddock or red mallet i would have put some cattle fish some mussels but here we go that's amara that's what we got here we have a lovely ragu for the kids with the sausages and minced meat beef minced meat that's it gonna add now some lovely chopped parsley the job the job is done the job is done the job is done let's move some of the pots out of the way get some parsley out make sure you don't don't touch the fish okay just stick do this game you know don't don't turn it upside down don't do anything do not touch it all right now boys girls wait for me parsley big chunk of parsley now there we go back to my chopping knife give a quick wash actually this is coriander yeah that's where the alteration is fresh coriander okay there we go so we give it a bit of alteration today all right guys what do you think what do you think the wife will tell later when she's tasting the soup is now cooking low flame yeah remember very low flame okay let's check the cake it's going nicely it's going nicely okay 180 degrees i have not taste the sauce yet i'm going to do it now i have not taste the sauce yet i'm going to do it now okay guys let's see if the sauce is good it's going to do it now okay it's good it's good it's good it's good i'm going to chop some coriander right to be honest i need to add a touch of sprinkle of salt guys sprinkle of salt you need a bit of salt okay okay let's see let's give another couple of minutes look at that proper soup here's the thickness of the potato the flavors onions parsley coriander chilies top glass never overcook it okay just the right right temperature right right cook it to the right time okay never overcook fish cheers give a couple more minutes i'll check my cake again it means it's a time to cook there we go okay guys it's time to say goodbye now that is very close so i'm going to cook all my coriander okay let's incorporate All right, ok, let's clean the place a bit, there's always a bit of a mess around, no waste will be, no waste will be, let's clean up a bit, there we go. All right guys, lovely job, ragu is ready. Final minutes, very final minutes guys. All right, gonna taste the sauce again. Okay, keep playing this game. So, let's put some sauce on top. I'm gonna take the flavors of India, you know, with the coriander. That's no Sardinia dish anymore, it's been altered, different herbs and spices. Yeah, there we go. Top class. Look, there's enough oil in it. Now let's test it again. Now it's perfection guys. Succulent. Succulent dish. Well done. Succulent. Bloody Covid times, you know, end up talking to myself. Isn't it? Cheers. I have to get ready now to meet a colleague. There we go. That is cooking. It's brownish. It needs 35 minutes. Nearly there 20 minutes. So, it needs more time. It needs more time. Ok. I'm not, I'm not. I'm not. You're not. It's been. I'm not. All right. So, I need to get ready for a second. They need to get ready. amici miei siamo aggiunti un momento dei saluti prepariamo che andiamo a lavorare quando nel lavoro oggi oggi si lavora ma una riunione per un possibile lavoretto ecco qua uno spettacolo ragazzo uno spettacolo veramente per tutto il sapore del pesce una zuppa portante volendo ci può aggiungere un pochino di pastina di fregola sarda hey guys we can add a bit of pasta durum with pasta sardinian type called fregola sarda you can find it in supermarkets in london right so i'm nearly there i'm gonna give you two more minutes and i'll say i need to get ready there you go dress up to go ah you can see my ragù is ready lovely lovely look at that very basic stuff nothing special but the kids will be happy I hope I hope I always hope young kids they are difficult so and this fish soup for the wife hopefully she likes it again you never know you never know there we go but you know what on my way back later by a couple of mussels I will add them up on top just to refresh to give more more sound to my dish I actually have some in in the fridge but they have pre-cooked with cream sauce so I don't want to mix it up it's gorgeous guys it's gorgeous there we go let's check my cake there cooking nicely let's check my cake all day that's nice and I'm sorry 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Simple as that. Hope you like it, enjoy it. My cake is still cooking. Not quite sure if you can see the end of it. My wine is also nearly finished. Last drop. Don't overcook it, okay? So I'm going to switch it off now and let it rest. Let it rest if you can all the afternoon, couple hours. Then don't, you know, you may use the microwave to warm up your dish or just warm it up very gently. Don't put, don't bring it to the boil ever again. Okay? You will have something exceptionally nice. Good stuff. Good stuff. Alright? Now let's see, my cake is getting brownish, it's getting there, but it's not ready. I need to make myself ready to go guys. I've got a meeting at 12 in the House of Parliament, nice things. to meet my previous boss, Moderna Colleen. A bit of work. Hey, we see, we keep going this way guys. Coronavirus is breaking apart everything. Just make sure you have a bit of work to do to keep yourself busy. not to make money, to keep going, telling you the truth, there you go, look at that, it's top-class guys, beauty, this is a beauty. Can you see it? I'm not sure, can you see it, look at that, it's wonderful flavors and smell all around the house, top-class fish soup. I'm not sure what it means, but here we go, that's how they call it, potato, potato that's used to bake, you know, to bake in the oven. They're rich in texture, they release some flavors, you know. You know, plenty of water, fresh tomatoes, avoid canned tomatoes, if you can, but they will do, like today for me, they will do their job. Right, so my cake is nearly there, I'm going to dance up, because I need to go. I don't get to know. Right, so it's הי Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.